Dotata di un aspetto fisico tutt'altro che appariscente, ma di una carica interpretativa elegantemente incisiva. Emma Grammatica debuttò in teatro ancora adolescente accanto a De Leonora Duse nella gioconda di Gabriele D'Annunzio, sorella dell'altrettanto celebre Irma Grammatica e della meno conosciuta Anna Adele Alberta. Grammatica, tra l'altro cognata della celebre attrice Vanda Capodaglio. Emma fu prima attrice nelle compagnie di alcuni dei nomi più prestigiosi del teatro italiano della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, come Ermete e Zacconi, Flavio Andò, Enrico Reinasce ed Ermete Novelli. Negli anni Dieci del Novecento forma la famosa grammatica Carini-Piperno, compagnia nella quale si formeranno molti grandi attori come Renzo Ricci e Lola Braccini. Frequenta, dai primi anni trenta, le partecipazioni alla prosa radiofonica IAR e successivamente Rai. Attrice di stampo verista, dai toni accesi e patetici. In età avanzata intraprese con successo la carriera cinematografica e televisiva. Recitando tra l'altro nel film Sorelle Materassi, 1944, di Ferdinando Maria Poggioli, accanto alla sorella Irma, è in Miracolo a Milano. 1951, di Vittorio De Sica. Recitò anche in Don Camillo Monsignore. Ma non troppo, 1961, di Carmine Gallone, ricevette riconoscimenti e onorificenze in Italia e la legion d'onore in Francia morì ad Ostia, frazione del comune di Roma. Riposa nella tomba di famiglia nel cimitero di Signa. Insieme alla sorella Irma e ai genitori.